Sta finalmente verificandosi quello che auspicavamo da oltre due anni di cercare di mettere in sicurezza la Basilica di San Marco. Può finalmente sorridere Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco. I cantieri circondano la Basilica da Piazzetta dei Leoncini fino al Palazzo Ducale, quando, se tutto va bene, tra tre mesi completeranno la propria opera, delle barriere di vetro saranno schierate a difendere con discrezione estetica la cattedrale da uno dei suoi nemici più pericolosi, l'acqua alta. È un'opera che teoricamente si potrebbe realizzare in tre mesi. Abbiamo lanciato la sfida di dire che vorremmo fare il concerto di Natale proprio avendo finito il lavoro. È un auspicio, sappiamo quanto sarà complicato e difficile ma devo dire che abbiamo visto le imprese molto ben disposte e convinte, come noi, che sarebbe un segnale importantissimo per la collettività. In mille anni di storia questa chiesa ha subito tanti interventi ma mai come quello iniziato ora. D'altronde la zona più bassa di Venezia deve combattere da sola la guerra contro l'acqua alta. Gli innalzamenti del Mose avvengono con maree che per l'area marciana sono ancora troppo alte. Ad agosto, con il resto della città asciutta, qui si è continuato ad andare sott'acqua provocando, soprattutto per i disastri causati dalla Salsedine, un danno intollerabile ad un patrimonio artistico unico al mondo. Auspichiamo quanto prima che iniziano i lavori anche per la messa in sicurezza dell'insula perché se l'insula rimane che l'acqua alta crea problemi a tutti a 88 centimetri avremmo l'acqua alta probabilmente ancora tutti i giorni. Grazie.